Non demorde la morsa del maltempo anche nel Pescarese con i fiumi che restano in codice rosso e il Pescara ancora ai livelli di guardia nell'area delle Golene con non poche apprezzioni e lavoro a pieno ritmo da parte di vigili e protezione civile operativi sul territorio e con le riunioni in prefettura che si accavallano per fronteggiare una situazione che resta comunque sotto controllo ma è sotto la spada di Damocle delle piogge eccezionali di questi giorni cadute in un maggio che quanto a precipitazioni sembra senza precedenti negli ultimi anni. Continua a piovere da giorni con le piogge che hanno portato anche all'esondazione del fiume Piomba a città Sant'Angelo con via delle terme chiusa al traffico e allagamenti di negozi a piano terra e abitazioni nella vicina Montesilvano. Interventi anche a Pescara dove i vigili del fuoco sono intervenuti sulla scogliera del molo nord del porto canale per rimuovere un tronco d'albero che era rimasto incagliato sotto la struttura di un trabocco. A Pescara resta l'allarme per il livello del fiume sorvegliato speciale dagli uomini della protezione civile che continuano a monitorare il livello dell'acqua. Il centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile già da ieri considerando le persistenti condizioni di tempo instabile ha raccomandato di mettere in atto tutte le azioni previste nel piano comunale di emergenza già evacuata la zona della golena nord con traffico interdetto e auto fatte rimuovere e anche nella golena sud.